Quanti saluti che ci sono stati oggi, salve a tutti i tarpapi, se n'è andato il nostro bellissimo orso e stasera verranno a prendere anche lui, il nostro bianco, l'abbiamo chiamato bianco perché è tutto bianco guarda in gran parte tutto quanto bianco c'è solamente sta macchietta che invece si chiamerà e si andrà a vivere a Sermoneta in provincia di Latina, quindi bianco, capito? stasera te ne vai a casa nuova, ti prenderanno un sacco di giochini per te, anzi già vanno presi un sacco di giochini per te e poi soprattutto ci saranno un sacco di pupetti che vorranno proprio giocare con te stasera mi raccomando comportate bene, comportate sempre bene come ti ha detto il papi anche bianco, un altro piccolino salvato, abbandonato dal nostro gruppo Italia 4 Zamp come sempre la voce di tanti pelosetti del mondo grazie a tutti